È la prima volta che vengo nelle Islands. È un posto romantico. Lei è romantica? È un uomo meraviglioso. Ma qualcosa lo divora. Voglio sapere cosa gli è successo. Notiziario della BBC. Oggi a Singapore, le forze alleate si sono arrese a Giappone. Per loro non eravamo veri uomini. Altrimenti saremmo morti per la vergogna. Siete uomini senza onore. Siete qui per aiutarci. A costruire una ferrovia. Se lo farete, per voi andrà tutto bene. Ma noi dicemmo no. Viveremo per vendicarci. È vivo? Sì, è vivo. E so dov'è. Ha intenzione di andare fino in fondo. Mi dispiace, ma il museo è chiuso. Mi sorprende che tu non mi riconosca. Lomax. Non immaginavo che tu fossi ancora vivo. Che accadde là dentro? Abbiamo vissuto cose che lei non può immaginare. Io lo amo e non voglio perderlo. Gli resterà accanto qualunque cosa farà. Ci riuscirò. No, no, non mi sì. Come Во... No mi sì. No youri tuè. Lizjara.